Signore e signori Benvenuti a questa nuova parte Della stupidità umana di Supertummi e Zumpafossi Bastava rispondere no E lei, da brava puttana qual è, sarebbe tornata a lavorare Get ready for battle Troia Cammina, balla, puttana Prendi tuoi cavalli Balla Prendi i tuoi cavalli Voi a prendere i tuoi cavalli Stronza Ma io non lo so Ci inganna in queste Guarda, è uguale la palestra Ah, lo sai che Ah, anche qui un altro campo da calcio Sono scialbe le palestre Questo è il Bernabeu Sono scialbe Quello di prima era il campo Sono scialbe ti sto dicendo Fanno cagare E ho notato, sai Sì, ma anche i capi palestra sono scarsi Sì Sì E allora hai fatto male Lo vedrai Tra poco o pochino Tra l'altro non spammare di Gabriel Ma sì, è un po' più scarsino degli altri Lo alleniamo Scusa Gabri Però Siamo indegni Ci perdoni Non volevamo dire proprio quello Che best Guarda che La bellezza Un Pokémon che dovrebbe essere un Drago Ma non lo è E poi fanno Drago Kindra Che non ha niente di Drago È finito Ok, possiamo continuare Stiamo qui a parlare con lui È un Opterodactyl Guardate Emozionante Ok, basta Ci potresti stare tutto il genere Esatto Raccontami che cosa hai fatto oggi Erodactyl Erodactyl Allora Come è andata con la battaglia Con quel Pokémon Emozionante Erodactyl Hai mai provato la pasta asciutta Con la panna Benvenuto Alla Roccabelli Jim Jim C'è la scritta Jim Jim Eh ma perché Questa è una doppia palestra È molto potente Guarda che Uh Un Armando Uh Non li ricordavo più scarsi O forse ero solo io Che ero più forte Sì Forse ero io Che ero più forte Mentre giocavo Bastian Contrario Proprio da Da filo piemantese Niente Boh Spaccato proprio a metà Però stiamo usando poco La tecnica Dat交ar Parlagli un po' Intanto Allora Erodactyl Che cosa ne pensi Di Naruto Ok basta Erodactyl Che cosa te ne fai Di quelle manine Se tanto poi voli Ok Benissimo Rock climb Rock climb Scala roccia Sì E Ed E non è una No Non è una È una Ah sì Rock climb se la puoi imparare eh tutti chi lo insegniamo? Mertin mettiamo Mertin Garry è quello che al set credo più smi è infatti charge ma a me piace charge però se lo mi toglie toglie e tanto è l'unico che ha un set scarso va bene charge via ahah tra l'altro scala roccia non so se l'hai notato ma è una nostra roccia seriamente? si era una massa normale una volta che io mi ricordi e la potevamo insegnare a tirani ah ma sai a cosa serve ho capito perché serve scala roccia perché vai a sinistra vai a sinistra aspetta posso vai a sinistra posso curare i pokemon mi rompi sempre che non li cura guarda guarda ho una spiegazione vedi io non sono stupido siccome questa parte è chiusa per arrivare alla città dopo bisogna andare nella grotta dove eravamo prima e c'hai anche ragione eh fulmini e sette colpiscono questa cima il monte loran si chiama monte loran si era molto elaborato la fantasia regna sovrana sempre eh allora che cazzo stai facendo? dove? ah che paranoia non mi piace trovare pokemon selvatici mi rompono gli shiny ti stanno volete sapere qual è stata l'innovazione più grande di pokemon da bianco nero 2? ah che ti danno la possibilità ti danno la possibilità di riusare il repellente cazzo poi no chi se ne frega di nuovi leggendari quella è una novità fondamentale di poter usare il repellente secondo me è una cosa inutile io non ho mai usato il repellente spostati non è roba per te e non ci chiude provo a vedere se ci può chiudere si ci potrebbe chiudere però Zeus regna su di noi qua mi sa tanto di sfida epica contro ecco ecco lì manco faccio il tempo di dirlo girato proprio all'indietro come fiero e poi girati anche tu vedete avete una visiera che non ha senso guardate questo è tipo il gioco dei pistoleri che ci 1 2 pam è morto ok sfidiamolo finalmente ti incontro per una battaglia è proprio un uomo di poche parole ma è questa cosa scusa è gold si ma è gold con lo sprite tarocco è gold è tinto di giallo quindi si chiama yellow ah fai calma mind calma mind calmati ma è che non serve contro ste pimp oddio intanto lo facciamo fuori però è bello sto sprite e ti ha anche indebolito la potenza del fuoco ok tutto va a mio favore scappa merda sniper city skyner city e signori ho detto sniper siamo questo monte così alto da arrivare fino skyner city cosa avevo detto io fino ai cieli guardate che figa è sulla montagna è in cima alla montagna no bellissimo e non hai ancora visto niente l'aron non l'avevo visto ora vi farò un piccolo spoilerino no no ok perché no no era un bello spoiler lei allora qui intanto ci sarà una capopalestra femmina se ben ricordo spoiler e dopo che tu la batti lei ti regalerà aerosalto ora aerosalto intanto che figa è la palestra che figa finalmente è una palestra ispirata oddio ah no non è che non è ispirata ecco hai visto loro volano sull'altaria non dimmi che ti puoi mettere sul pokemon volante eh si e tu dirai ci possiamo mettere su i dragon no viene uno scarmory ah e lo so però comunque e qual è però il modo per perché esiste una mossa aerosalto diventa una mossa di questo tipo praticamente aerosalto diventa una finta meno seriamente si e ti permette di volare certo figata pensa a volare sul bullabi salti sul pollo vola vola coglione vola lui alla palestra eh vabbè allora tanto sai che voleremo vedi perché vedi perché ti ho segnalato questo gioco io non trovo mai giochi ma sono inutili queste trecce perché sono tutte uguali sia che prendi un lato che prendi l'altro tra l'altro vedo un pokemon molto scarso da battere ce l'hanno solo tutti ce l'hanno avuto solo tutti fino ad adesso il bagnino non è roba per te no dai rebecca benvenuto nella skydell benvenuto a smergia scusa sono dislessica allora mi sono specializzata in pokemon volanti ok e beh sai non so parlare molto bene lei sono tutti di poche parole in questo gioco tutti che meno parole più fatti allora proviamo oh ma cosa proviamo la potenza ecco questo pensa di batterci cosa vuoi fare ma ne abbiamo 0,3 periodico ma adesso voglio dire delle potenze 4 mosse 3 pokemon morti però sono scarsi questi questi capitoli c'è una becca e cioè la skyver guarda 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 abbiamo la licenza da pilota no seriamente guarda start premistar aspetta forse dovrebbe essere uno strumento base se potrei dire una stronzata ma forse no ha detto una stronzata pilota di autorizzazione di volare nelle strade dei cieli il l'avvertimento di papà non posso cosa mi serve un diploma cosa mi serve una laurea se ho una licenza da pilota di pokemon papà non è d'accordo dovevi studiare bambino allora intanto vai nell'allevamento vai nell'allevamento 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 è un allevamento questo è un allevamento oddio la voliera ma cos'è cos'è si dice voliera disturbiamoli star e questi pensano già quando diventeranno famosi si esibiranno sul palco e diventeranno delle star quella è una persona anche lui lui sarà il loro maestro diventerò una star sono dei pochi attori una star di Hollywood basta anche lui di poche parole star 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 eh snankers è finito boia e niente e niente ecco ora arriverai puoi volare qui sopra devo usare l'ero assalto però si devi insegnarlo come popolo eeeh steel wing rock slide glide 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 aaaaaa c'è un piccolo problema v la b ci servi quello che avevamo detto prima sia beh voleremo sul pollo sul pollo vieni qui scusa togli coso si il nostro preferito è il bagnino è troppo bello è troppo no davanti più una strada è purtroppo gabry ma si dai ti riprendiamo dopo gabry sono un tempo di una volata sono un pezzo di volata non è che di importante attenzione andiamo in volata hai capito andiamo in volata si si ok e chi mi giri al contrario allora glide se andiamo a glide bene eccolo bravo furiato i nostri sogni diventano realtà e ora sei pronto per l'epicità del momento volavi il tuo primo volo tu sei volare qui sopra ah no devi usare glide pokémon eh si però devo girarmi al contrario glide 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 non era o salto no glide non era o salto ahhh brutto idiota mi ha fatto svegliare una mossa perché bene o salto togli 60 non 90 cos'è glide allora allora ce la dà nella città brutto coglione sei un idiota cosa fai ma io non lo so si può mai fidarsi vabbè comunque era una mossa inutile perché cerchiamo glide no cerchiamo assalto eccetto perché era salto aerei a l'ace non glide vabbè non posso ricordarmi che ricoglioni aerei a l'ace glide e glide cos'è allora perché ne so ormai me l'hai fatto sprecare era anche forte 80-100 ah era no non extreme speed ma va sei volante sarà per forza l'ignoranza l'ignoranza guarda l'ignoranza ok ragazzi finalmente siamo riusciti a volare semplicemente bisognava attivare la licenza di volo dio buono ma il nostro pollo non può con pollo volevamo giù mayday mayday pollo abbattuto ma noi continuiamo a volare ma che fierezza che fierezza che fierezza li taglia tutti staccata attenzione sei salta tutti gli allenatori me li farò più avanti così come se ci fosse la posso restare su di lui che figo starò sempre così lo saprai vero lo sai vero che ora che ho scoperto questo io starò sempre sul pokemon è tipo una bici lo sai appunto che bello guarda guarda che figo prenderà non abbiamo ti prendo ti prendo a beccare cattivo 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 bene e ora voliamo allora è già arrivata la nuova città ma direi che il tempo scarseggia si direi che ce la voliamo via ce la pisciamo ok io direi che possiamo terminare qui la parte sul fantastico scarmori anzi no andiamo a beccare i cattivi che cosa volete fare bastardi ok detto questo se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale monelli e io vi saluto ciao e tu bambina cosa stai guardando monella sei una monella